Ciao, siamo a Galafai, a Orzuei, a Sardegna e sono Gigi Carreras, è tempo di potatura verde. Ricordo che la potatura verde è fondamentale per la potatura di tipo ramificato, in generale è importantissima per qualsiasi forma di allevamento, in particolare per la potatura ramificata, quindi è in questo caso, nel caso della vigna di Galafai, dell'impostazione Guglio. Quindi andiamo a vedere, dai! Un esempio di potatura verde su Guglio, cosa facciamo? Eliminiamo tutto quello che non riguarda gli speroni che servono per la prosecuzione della ramificazione e tutto quello che non serve nel capo a frutto, quindi dopo i germogli, germogli verso il basso, eccetera, eccetera. Allora, partendo dal basso, cominciamo a eliminare i germogli sul tronco, eccolo qua. Individiamo quali sono gli speroni lasciati l'anno scorso, questo e questo, questo è quello di continuità, più uno, e questo è pulito, lo lasciamo. Stessa cosa qua sotto, uno, più uno, ecco, qua l'avevo lasciato un po' più lungo, in realtà questo è germogliato, quindi io l'anno prossimo non prendo questo, ma prendo questo come prosecuzione. Qua c'è un po' più germoglio e questo lo elimino. Questo è sul tronco, quindi lo elimino. Stando attento a non rompere quell'altro. Eccolo qua, è eliminato, perfetto. Oh, adesso quindi la potatura verde sugli speroni che mi garantiscono la continuità per l'anno prossimo è fatta. Andiamo a vedere sul capo a frutto. Tutto quello che c'è prima della curva lo devo eliminare, quindi questo. Quindi questo. E comincio a eliminare qua. Quanti ne lascio? Eh, devono lasciarne un 4, 4 o 5 al massimo, quindi comincio a eliminare questo qui. Che non mi serve. Questo lo lascio, questo lo lascio. Questo è verso il basso, quindi lo elimino. Ok. Questo è verso il basso e quindi lo elimino. E quindi in tutto ho lasciato, diciamolo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 germogli. Questo lo lascio verso il basso perché mi garantisce, questo lo lascio perché è verso il basso, che quindi mi garantisce che la linfa venga portata, lo uso come tira linfa verso il basso, ok? Per questa porzione. Ok, in questo caso quindi la potatura verde del guio è effettuata. Un altro esempio di potatura verde per il sistema di allevamento a guio. Allora, partiamo dal fusto e cominciamo a eliminare tutto quello che non serve. Questo avevo lasciato al veduto eliminare in fase di potatura, ma mi è scappato. Allora, speroni. Eccolo qua. Uno c'è, doppio germoglio, questo lo elimino e questo lo elimino. Questo qua, in questo caso, purtroppo il germoglio è messo in posizione strana perché è un po' esterno. L'anno prossimo dovrò utilizzare questo per la prosecuzione del flusso. Da quest'altra parte invece, doppio germoglio e anche doppio germoglio dall'altra parte. In questo caso il germoglio è posizionato bene perché mi garantisce la prosecuzione verso sinistra. Capo a frutto, elimio tutto quello che sta prima della curva. In questo caso la curva è molto morbida. Comincio a eliminare questo. Ok, un germoglio verso il basso. Ok. Qua c'è un grappolino, ma questo lo elimino. Qua c'è un grappolino, questo glielo lascio. Questo è verso il basso, ma c'è un grappolino. Questo lo stesso, questo è verso il basso. E glielo elimino. Questo è verso il basso, glielo elimino, se non la carico troppo. Ne lascio, vediamo quanti. Questo lo posso eliminare. Ok. Quindi ne sto lasciando. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Capi a frutto, cioè germogli sul capo a frutto. E quindi in questo caso la pianta è potata a verde. Questo è un caso di potatura a verde in cui in fase di potatura non è andato tutto come si sperava. E vediamo un attimo perché. Allora, va bene. Purtroppo io, a causa della disposizione delle gemme, ho dovuto lasciare uno sperone che non va, diciamo, sull'asse, sul piano, quindi del filare. Però, sono stato previdente e quindi, che cosa ho trovato, cosa ho lasciato qua? Eccola qua. Gemmetta. Che questa, quindi, sarà la gemma, il tralcio nato dalla gemma, che mi consentirà di rimettermi in asse. Quindi il resto lo elimino. Questo è un dopogermoglio. Questo è lo sperone. Ok. Qua c'è un altro dopogermoglio. Ok. Quindi questo è lo sperone, diciamo, di destra, di questa parte. Quello che sta sul fusto lo elimino. Ok. Vediamo a sinistra. A sinistra, lo stesso, ho una gemma che è ben messa, che è questa qua. Più una. Questa qua, questa dietro, lo elimino. Elimino tutto quello che, diciamo, non mi interessa. Vediamo sul capo a frutto. Ecco qua. Qua c'è un dopogermoglio. Questo lo elimino. Questo è un germoglio che non produce. Lo elimino. Questo è un germoglio, diciamo, prima della curva. Quindi, comunque, lo elimino. Questo lo elimino. Vediamo qua. Cosa abbiamo? Questo abbiamo un doppio germoglio, quindi lo eliminiamo. Questo è un altro dopogermoglio e lo eliminiamo. Vediamo qua c'è un sacco di roba. Mi hanno lasciato un sacco di roba, quindi bisogna eliminare un bel po' di roba. Tra l'altro poi devo anche legare. Quindi questo lo elimino. E questo qua è un doppio germoglio che quindi va eliminato. Eliminiamo, anzi, elimino questo che è più bruttino. Ok, quindi poi questo me lo riporto. Mi tocca riportarmelo se non lo spezzo. Dai. Mi tocca riportarmelo qua su. Eccoci qua. Quindi anche in questo caso, questo lo mettiamo un po' più bellino, così magari si vede meglio. In questo caso, potatura verde effettuata. Ultimo esempio di potatura verde su pianta levata guio. Eliminiamo tutto quello che abbiamo detto che sta nel fusto. E qua. E qua. Questo e questo. Allora, dove stanno gli speroni? Uno è qua. Quindi speroni di continuità, gemma di continuità più uno. Qua ci sono un sacco di doppio germoglio, quindi li elimino, questo li elimino, questo li elimino. E ho una gemma, anche qua ho lasciato, come in un caso precedente, ho lasciato, lo spero, un po' più lungo, ma questa è la gemma che mi servirà per la prosecuzione l'anno prossimo. Quindi li lascio tutti e due. Da questa parte invece ho, questa è molto misera. Vedete qua? Questo li elimino, non mi serve. Quindi lascio questo sperando che si rinforzi. Altrimenti mi tocca prendere per forza questo. Nellungo un pochettino, però pazienza. Vuol dire che questa qua non è gemmogliata. Vediamo tutto quello che non serve nel capo a frutto. Tutto quello che è da prima della curva. Questo va verso il basso, ma è molto... Allora, vediamo questo qua. È nel fusto, quindi li elimino. E l'ho tolto. Questo è molto miso e lo tolgo. Uno, due. Abbiamo visto tre. Quattro e cinque. E questi, diciamo, li lasciamo tutti quanti. Sono fruttiferi. Non hanno molti grappoli. L'ha pianta in buon vigore. Quindi, insomma, ci sta. Per cui lo lascio. Per cui, effettuata la potatura verde. Dai! Ok, finita la potatura verde a Galafai, nella vigna Galafai, che è bella, rigogliosa, verde, sana. Ricordo che siamo al 16 maggio, quindi, insomma, è una giornata anche abbastanza piovosa. O meglio, è bigia, più che piovosa. L'acqua l'ha data per lunedì e martedì prossimo. Quindi, sicuramente, a settimana prossima, bisognerà intervenire perché poi è previsto caldo. Per cui, poi questa è una zona abbastanza umida. Diversa da Suboe. Suboe è un po' più asciutto, poi è più ventilato, poi è un po' più umido. Quindi, rischia, la vigna rischia di ammalarsi, di beccare sia peronospora che oidio. Quindi, abbiamo finito la potatura verde. Ricordiamo che la potatura verde è importantissima perché con la potatura verde regoliamo la vegetazione, evitiamo che la pianta distribuisca troppa linfa a germogli non produttivi. Tutti i germogli che partono dal fusto non sono interessanti perché non servono per l'allevamento e per la forma appunto di allevamento, che in questo caso è il Gouillot. E non interessa che ci sia un giusto equilibrio fra vegetazione e produzione. Anche in virtù del fatto che comunque questa è una vigna piattata dal 2017, quindi di fatto è al terzo germogliamento. Ok? Il primo germogliamento del 2017, anzi il quarto germogliamento veramente, perché il primo germogliamento del 2017, il secondo 2018, il terzo del 2019 e questo è il quarto germogliamento. Però, diciamo, il vigore è quello corretto per l'età di questa pianta, tenendo conto che siamo in asciutto. Quindi, potatura verde effettuata, per cui ci vediamo alla prossima. Ciao!